Bene ragazzi, benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video Excel Magico numero 120 questa è la seconda parte dedicata allo strumento Consolida ovviamente vi invito ad andare a vedere il video precedente Excel Magico numero 119 dove abbiamo visto questo strumento Consolida che analizzava i dati all'interno della stessa cartella di lavoro su più fogli però adesso andiamo a fare uno step successivo andiamo a vedere come analizzare i dati che sono disposti su più cartelle di lavoro ovviamente rimane scontato che questo strumento qua è veramente molto valido perché ci permette di evitare di fare formule super avanzatissime piuttosto che magari per gli esperti di Visual Basic Application di fare dei codici molto lunghi e anche molto complicati ovviamente per cui vale veramente la pena di vedere questo video fino alla fine e imparare a utilizzare questo strumento che lo vediamo oggi in una veste un po' diversa cioè lo vediamo come lavorare su più cartelli di lavoro però ancora prima di farvi vedere come si fa ovviamente vi suggerisco vi consiglio e vi chiedo di andarvi a iscrivervi al mio canale cliccate sul tasto iscriviti e poi cliccate anche sulla campanellina che servirà per avvisarvi quando io poi pubblico un nuovo video grazie ragazzi a questo punto andiamo avanti ecco qua io nel desktop mi sono messo 4 file chiamasi anche cartelli di lavoro perché in Excel il file viene chiamato cartella di lavoro workbook in inglese file est file ovest file nord file sud ok a questo punto un suggerimento molto importante una raccomandazione quando voi avete disposti i file che devono essere realizzati in una cartella di lavoro io in questo caso qua l'ho messo sul desktop ma ovviamente potete metterlo in qualsiasi altro punto mi raccomando una volta che avete utilizzato lo strumento con solita non spostate nessuna cartella di lavoro perché altrimenti si interrompe la comunicazione e ci darà poi un errore per cui l'abbiamo messo là lì sono e lì rimangono ok ecco adesso andiamo a aprire un nuovo file di Excel vado a cliccare qua sul mio Excel vado semplicemente qua in altro nella home andiamo qua nella scheda dati ecco qua andiamo in consolida ecco qua mi viene fuori il mio wizard ovviamente scelgo la funzione e qua l'ho scritto riferimento vado a cliccare su sfoglia ovviamente io so che il percorso era nel desktop vado a cliccare su desktop e vado a scegliere est ok ecco notate qui nella barra del riferimento mi da tutto il percorso c due punti user desktop eccetera eccetera mi da est però ovviamente non mi da né il foglio e né l'intervallo perché ovviamente non l'ho selezionati quindi per cui questo strumento qua prima di richiamarlo dobbiamo aprire tutti i file tutte le cartelle di lavoro ok per cui richiudiamo questo strumento qua chiudiamo Excel e assicuriamoci come prima cosa ovviamente di aprire tutte le cartelle ecco io per aprire tutto in un colpo le seleziono tutto e con il mouse destro faccio apri ecco noterete che adesso si stanno aprendo vedete qua est si sta aprendo si sta aprendo Nord e qua Ovest è aperta e Sud è aperta sono tutte e quattro aperte infatti io per vedere se è una cartella aperta faccio Control Tab per saltare da una cartella aperta all'altra vedete Sud, Ovest, Nord, Est eccetera eccetera Control Tab ricordate che è un buono shortcut ok a questo punto possiamo andare a aprirci il nuovo Excel io vado qua su Windows vado ad aprire Excel ok adesso posso andare qua in dati nella scheda dati vado in Consolida ecco verrebbe spontaneo cliccare sfoglio ma in questo caso qua non clicchiamo più sfoglio ma andiamo semplicemente qua in basso vedete andiamo a vedere tutti i file aperti ecco partiamo dal primo che è sulla sinistra andiamo da sinistra verso destra per cui andiamo a aprire Est a questo punto qua vedete che io seleziono tutto il range e faccio Aggiungi noterete che lui mi dà tutto il percorso vedete mi dà Est che appunto sa significare il nome della cartella di lavoro me l'ha messa tra parentesi quadra mi dà il nome del foglio foglio 1 me lo dà con il punto esclamativo poi mi dà il range da A1 a D8 a questo punto sono soddisfatto ecco però un accorgimento molto importante se vogliamo selezionare il secondo intervallo dobbiamo assicurarci di cancellare questo facciamo Cance altrimenti mi sovrascrive lo stesso file di prima e in questo caso qua andiamo a scegliere il nostro nuovo foglio andiamo qua in Nord ok selezioniamo tutto il range compreso ovviamente anche le intestazioni di riga e di colonna in modo tale che poi abbiamo anche una comunicazione con le etichette sono soddisfatto faccio Aggiungi ovviamente mi preoccupo sempre di leggere vedete che qua abbiamo Nord tra parentesi diciamo quadra poi foglio 1 e range A1 a 8 sono soddisfatto a questo punto cancelliamo questo ecco cancelliamo mi raccomando facciamo Cance andiamo nel terzo foglio scusate terza cartella di lavoro seleziono tutto il range sono soddisfatto faccio Aggiungi e ricontrollo va bene cancelliamo andiamo nell'ultima cartella di lavoro eccoci qua che era Sud selezioniamo l'intervallo vediamo Sud ok sono contento va bene faccio Aggiungi ritorno a controllativa vedete qua Est Nord Ovest Sud va tutto bene se vogliamo le etichette dobbiamo spuntare sempre l'intestazione di riga superiore e colonna sinistra ecco io in questo caso qua lo voglio linkare in modo tale che i dati si aggiorano istantaneamente quando io poi cambio la sorgente per cui flaggo questa checkbox e do l'ok andiamo nell'ultimo foglio ecco qua lui me l'ha creato eccolo qua vedete facciamo una piccola zoomata con CTRL rotellina andiamo avanti ecco lo vedete qua sulla sinistra abbiamo dei più cioè 1 e 2 se io scaccio 2 me li espande tutti se faccio 1 me li chiude tutti oppure posso espandere singolarmente ecco in questo caso qua io ho espanso ecco qua gg faccio più ecco notate che questo qua è il totale vedete mi dà la somma di tutto quello che trovo in gg ovviamente è dinamico nel senso che se io cambio anzi poi vi farò vedere facciamo così andiamo in gg qua mettiamo 1033 vediamo se è cambiato CTRL TAB per saltare ecco qua ma la cosa importante che adesso dove è eccolo qua ecco qua scusate era questo la cosa importante che potete notare che vedete se io faccio un doppio clic o un F2 su questa cella qua vedete che lui mi dà proprio il nome della cartella mi dà il nome del foglio che era foglio 1 e mi dà la cella B2 stessa cosa qua vedete che è linkato praticamente se io modifico la sorgente si modifica automaticamente anche il risultato vedete nord tra parentesi quadri eccetera eccetera e qua ovviamente è il totale ok questa è una cosa molto importante facciamo un altro test vediamo qua magari andiamo a espandere grazia ecco notate una cosa molto importante lui mi dà i nomi dei file est nord ovest ecco qui voglio rimarcare il fatto che questo strumento qua come dicevo prima è più adatto quando si lavora su più cartelli di lavoro e non su più fogli perché lui mi dà sempre il nome del file perché come ho fatto vedere nel video precedente se avessimo lavorato sulla sesta cartella di lavoro su più fogli qua avrei letto solamente il nome del file invece qua notate che leggiamo proprio il nome della cartella ed è per questo che mi viene spontaneo pensare che questo strumento qua è più adatto per lavorare sulle cartelle di lavoro ok ecco vi ricordo che comunque è molto importante che questi file qua vengono sempre lasciati nella stessa posizione non vengono spostati perché se io cambio posizione succede il dramma ad esempio torniamo qua chiudiamo ad esempio tutti i file questi qua chiudiamoli tutti quanti ecco qua facciamo chiudi salva ovviamente salva facciamo chiudi ovviamente salva chiudi questo qua non c'è bisogno di salvarlo perché l'ha già salvato ecco se io ad esempio andiamo qua in explorer risorse se io qua in desktop sposto ad esempio questo file qua est e lo metto dentro documenti eccoci qua noterete che poi io quando vado a aprire il file questo qua noterete che c'è un'interruzione ok ecco noterete che ad esempio ecco non mi dà errore però se io vado a aprire il file est che adesso l'ho messo dentro qua e cambio ecco qua vedete e cambio non so da 1033 faccio 0 noterete che non è più linkato praticamente il risultato rimane invariato vedete che non si è modificato avrebbe dovuto diventare solamente 86 qualcosa del genere vedete io se espando qua vedete che qua anziché non mi dà lo 0 perché è lui vedete lo trovo ancora su desktop invece io l'ho cambiato diciamo il percorso per cui non trovando il percorso si non mi dà errore ma ovviamente mi dà il risultato sbagliato e questo ecco mi raccomando non cambiate la posizione della cartella di lavoro altrimenti il risultato sballa ecco ragazzi mi sembra di aver dato tutto in merito a questo strumento che mi avviso è veramente ottimo ci evita ovviamente di fare delle formule o dei codici visual basic application abnormi per cui ovviamente anche complicati e mi sembra di aver detto tutto se ho detto qualche inesattezza potete scriverlo qua in basso nei commenti di youtube se avete anche un'alternativa potete anche scrivermi a questa alternativa ovviamente rimane inteso che vi consiglio di provare con le vostre manine perché così voi potete anche memorizzare quello che ho detto ecco prima di chiudere vi ricordo i miei social non sono su facebook mi trovate su instagram su linkedin e su twitter se avete i social benvenga anche nei social ragazzi e se vi è piaciuto ovviamente vi dite un like un dislike condividete il video se non vi siete mai iscritti iscrivetevi al canale grazie ragazzi e alla prossima ragazzi come al solito se vi è piaciuto mettete un like ovviamente se non vi è piaciuto mettete anche un dislike qui sulla sinistra abbiamo il tasto rosso iscriviti qualora non siete mai iscritti ci clicco sopra ecco qui a fianco troverete una campanella che servirà per abilitare le notifiche via email così quando pubblico un nuovo video verrete informati grazie ragazzi e alla prossima